Siamo i docenti, siamo i docenti del concorso suppletive 2016, i quali sono stati assunti e poi licenziati dallo Stato. È una storia ingiusta, è una storia triste la nostra. Dopo quattro anni abbiamo avuto una sentenza che ha ribaltato tutto il leader giudiziario positivo che c'era stato fino a quel momento e dopo essere stati messi in ruolo, dopo essere stati messi in cattedra, siamo stati cacciati via. In piena emergenza coronavirus, quando si sta dando sostentamento a tutti giustamente, adesso invece noi ci ritroviamo in mezzo alla strada e siamo qui oggi per protestare perché è un nostro diritto essere di ruolo, è un nostro diritto perché abbiamo vinto un concorso pubblico facendo dei sacrifici e meritiamo il posto dove siamo. Siamo di essere rimessi in ruolo per settembre, speriamo di essere rimessi nelle graduatorie dalle quali siamo stati depennati, siamo stati cancellati. Hanno cancellato le nostre storie, ci sono storie tristi. Noi per accettare l'incarico pubblico, molti di noi si sono licenziati da un posto di lavoro privato. Ci siamo dovuti per forza trovare a scegliere perché era un posto di lavoro a tempo indeterminato, quindi non potevamo mantenere entrambi i contratti ad esempio. Grazie.